L'Associazione dei consumatori Robin Hood denuncia un caso molto particolare registrato ai danni di un cittadino della provincia di Teramo, che si è visto recapitare delle bollette per il pagamento di un'utenza riferita al consumo di gas di un palazzetto dello sport. Una situazione paradossale su cui l'Associazione dei consumatori sta lavorando per capire come sia stato possibile intestare questo contratto ad un cittadino, che non ha nulla a che fare con la struttura in questione, ma che ora rischia un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento e il taglio delle forniture delle altre utenze a lui intestate. Le bollette erano intestate a lui, poi tramite il PTR, che è un codice univoco che identifica l'utenza, siamo risaliti al palazzetto. La cosa incredibile, ma vera, è che in pratica questa operazione è avvenuta in default, ovvero questo contratto era prima di una società che gestisce questo palazzetto ed era di una società di vendita del gas. Di colpo, andando in default, il default è in pratica un sistema di garanzia per evitare che le persone rimangano senza gas nel momento in cui hanno problematiche con la società, anche se sono morose per esempio. e quindi andare in default significa anche essere identificato come un soggetto che non ha pagato, perché la maggior parte dei casi è questo. Per cui la nuova società di vendita dichiara che gli è pervenuto tramite il default e quindi non ha un contratto di vendita e quindi si dichiarà non responsabile di questa situazione. La società precedente dice che non ha rapporti con lui perché in pratica il contratto è intestato ad altro soggetto e quindi per la questione di pravesi non può dire né chi è l'altro soggetto né intervenire per quanto riguarda questa cosa. E quindi ci troviamo in questa situazione veramente paradossale perché c'è questa persona alla quale tecnicamente possono anche tagliare il gas di casa perché ha lo scontratto con la stessa società di vendita. Quindi si trova in una specie di limbo da dove bisogna capire come uscire. La cosa poi che preoccupa è anche la SOM, visto che è considerato che un palazzetto non consuma come un'abitazione? Assolutamente sì, questo è un altro degli aspetti preoccupanti anche perché ormai siamo abitolati a tutti. È anche facile che la società che gestisce attualmente questo contratto faccia un decreto in giudizio. Un errore materiale è quasi da escludere perché sono talmente diverse le due posizioni che insomma un errore materiale è veramente scuro. È evidente che pensare male forse qualche volta si fa bene e quindi ci troviamo di fronte a una truffa. Comunque poi noi segnaleremo tutto quanto alle autorità competenti e verifichiamo anche questo aspetto.